Droga e alcol sulla neve scoperti nel fine settimana dai carabinieri di Susa, grazie ai controlli alla circolazione stradale in prossimità delle zone turistiche sulle piste da sci nel comprensorio della Via Lattea tra Sestriere, Bardonecchia e Cesana Torinese. Denunciati per guida in stato di ebrezza quattro turisti italiani tra i 22 e 49 anni, controllati alla guida delle proprie auto con un tasso alcolico nel sangue al di sopra del consentito. Durante lo stesso servizio sono stati segnalati alla prefettura di Torino come assuntori di droga sette persone, due di queste controllate sulle piste da sci. In tasca sono stati trovati alcuni grammi di cocaina e marijuana. Grazie a tutti.